27 aprile giornata mondiale del disegno ti sfidiamo a una challenge partecipa anche tu scarica la scheda per partecipare alla challenge e posta il tuo capolavoro su facebook idea arte e fatti votare da amici e parenti chi riceverà più like sarà il vincitore assoluto della giornata mondiale del disegno 2021 idea hai tempo fino al 2 maggio per postare il tuo disegno e fatti votare no Grazie a tutti. Ciao, oggi 2 maggio 2021, siamo per programmare il vincitore assoluto della prima edizione Challenge Giornata Mondiale del Disegno 2021 Idea Arte. Grazie a tutti. Siamo tutti bravissimi, il vincitore è super e vincerà una t-shirt con la stampa del suo disegno e la coppa del vincitore. Complimenti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.